Esatto, qui devo dire una cosa, metto da parte un po' quello che è il mestiere del conduttore, perché in queste situazioni le parole risultano sempre un po' soffocate. La cosa Paola che ti voglio dire, e mi permetto di darti del tu, è che questa è, lo sai, la terza edizione di Tommy nel cuore, è una serata, l'abbiamo chiamata una serata di festa, perché qui ci sono davvero tantissime persone che sono strette non solo a te, ma a tutti, al tuo Tommy e a tutti i bambini del mondo. E quindi ti vogliamo davvero ringraziare di questa tua presenza, che vi ho detto che ti vogliamo bene come vogliamo bene al tuo argomento. Grazie, grazie mille, veramente, continuate con il mio. Allora, io adesso non so a chi devo scendere la parola, al signor Sindaco, prego. Grazie a tutti e a tutti voi per essere qui, grazie ancora all'Associazione Tommy nel cuore e a Luca Insessi e alla signora Paola per aver scelto ancora Roncolo per questa bella occasione. La terza edizione, noi ci candidiamo già per la quarta perché davvero ci siamo legati. Il simbolo dell'Associazione Tommy nel cuore è sostanzialmente l'emblema di come un paese può...